Crisi politica a Cava dei Tirreni. Ieri sera si è concluso il ciclo di consultazioni del Sindaco Galdi con i gruppi consigliari presenti in Consiglio. Il primo cittadino, accompagnato dal rappresentante della Civica Città Unita, Marco Senatore, ha incontrato in primis Vincenzo Bove, capogruppo di Cava Millenio, il quale ha ribadito la propria posizione di opposizione, confermando tuttavia la disponibilità su singoli provvedimenti a valutare caso per caso anche il voto favorevole in presenza di decisioni condivisibili. Sempre ieri l'incontro con il gruppo del PD, presenti i consiglieri Barbuti, Mandara e Polacco, che hanno sottolineato l'esigenza di rimodulare il programma dell'amministrazione in funzione delle reali possibilità di mantenere gli impegni programmatici nello scorcio di consigliatura che rimane, richiamando inoltre l'attenzione della futura amministrazione sull'esigenza di assicurare una buona qualità della vita ai cittadini. Si è inoltre sottolineata l'esigenza di dare attuazione al Paese reperendo fondi comunitari. Entro la prossima settimana il sindaco si è impegnato a predisporre un documento di sintesi politica da sottoporre a tutti coloro che vorranno condividere le responsabilità di guidare la città. Le indiscrezioni parlano di un peso fondamentale per la rimodulazione della maggioranza dell'esito dell'incontro che tra domani e sabato Galdi avrà con il leader campano del PDL, Mara Carfagna. L'obiettivo è quello di strapparle il sì all'inclusione del popolo della libertà nel nuovo progetto politico per la città.